www.canale58.com la tv sul web notizie video rubriche diretta streaming scarica l'app di canale 58 per tablet smartphone iphone con mozione ricordi riemersi ieri per tanti studenti del liceo parzanese che sono stati formati in uno dei licei più antichi in italia sorto subito dopo l'unità d'italia presso l'ex seminario vescovile con il nome di ginnasio con vittoreggio dal 1882 al 1922 viene gestito poi dalla civica amministrazione con il nome di ginnasio governativo pietro paolo parzanese un cammino quello dell'istituto che si è andato arricchendo nel tempo classico e scientifico ma poi si è andata sempre più arricchendo anche di un'offerta formativa notevole intere generazioni hanno raggiunto brillanti risultati in ogni campo dello studio oggi al liceo parzanese si ritorna da giornalista? insomma c'è un misto di nostalgia perché io quando ero qui nel 1979 quindi gli anni sono sono passati e quindi il ricordo del parzanese è un ricordo forte è un ricordo di formazione e che probabilmente anzi senza e probabilmente è servito poi nel mio percorso professionale perché la scuola la formazione quello che ti insegnano da ragazzo da adolescente te lo porti fin dove poi uno arriva nella professione e quindi anche in quella che all'epoca nella mia testa era solo una passione che oggi è diventata invece la mia professione oggi il dirigente scolastico Alfonsina Manganiello punta ad un'offerta formativa sempre più qualificata impegnandosi ad un miglioramento costante dell'istituto e aprendo la scuola al territorio e alle sue molteplici proposte opportunità formative ancora all'attualità è un'ottima scuola e devo dire anche ben diretta con insomma con polso fermo deciso e autorevole dalla preside Manganiello il mio il convincimento della bontà e dell'importanza di questo liceo e penso di averlo dimostrato e facendo frequentare a tutte e tre i miei figli questo liceo classico due stanno per diplomarsi il terzo è in arrivo sta frequentando il il terzo anno il liceo classico è come quello scientifico sono le le uniche scuole più idonee le sono le scuole più idonee per per raggiungere questi questi obiettivi www.canale58.com la tv sul web notizie video rubriche diretta streaming scarica l'app di canale 58 per tablet smartphone iphone www.casMeill Fleet P bin Laden Gg Gg I Gg